Sì, Presidente, anche meno, anche un minuto, chiaramente per dichiarare il voto favorevole a questo dispositivo della maggioranza, perciò del Movimento 5 Stelle, e per dire anche che comunque le api hanno un'importanza specifica come bioindicatori, vengono utilizzati anche per monitorare tutti i luoghi inquinati, ricordiamo anche il famoso incendio Eco-X vicino Pomezzi, insomma, furono utilizzate proprio delle tecniche legate all'apicultura. Ricordiamo anche che questo dispositivo chiede al Dipartimento, perciò al Servizio Giardini, di utilizzare tutte quelle piante, perciò quelle essenze che favoriscono l'impollinazione e favoriscono anche, in qualche modo, l'avvicinarsi delle api per reperire poi il polline e per produrre automaticamente il miele. Perciò si parla anche di una tutela dal punto di vista del verde, del verde pubblico e anche sulle putature, perché ricordiamo che quando avvengono delle putature in modo non proprio corretto, perciò in modo chiaramente non controllato, ciò danneggia la nostra fauna e anche la nostra biodiversità. Perciò anche qui deve essere posta un'attenzione molto particolare e molto attenta. Per concludere un po' questo tema, per aggiungere qualcosa che potrebbe essere utile alla discussione e anche alla votazione, ricordando che appunto il voto sarà un voto favorevole. Grazie Presidente.